Venturino Venturi Venturi è rimasto per tutta la vita straordinariamente legato al Valdarno. È nato a loro sciuffenna, ma la sua vicenda personale e biografica lo ha condotto a viaggiare molto, quindi in Europa, in Italia, a Firenze. In tarda età è voluto tornare nel suo Valdarno, ha costruito la casa, già abitato a vent'anni. In questo suo ritornare un posto importantissimo l'occupa Cavriglia, o meglio Castelnuovo dei Sabbioni, che è stato purtroppo soggetto di una strage nazifascista di cui tutti sappiamo, ma che per Venturino è stata l'occasione di una opera molto importante, forse la più importante dell'ultima parte della sua vita, che lui ha voluto dedicare alla comunità di Castelnuovo dei Sabbioni. Si voleva a quel tempo ricordare la strage nazifascista, gli episodi di eroismo che furono in quell'occasione, e si chiese a Venturino di raccontarla a modo suo. Forse qualcuno si aspettava un racconto, un'illustrazione della vicenda, e allora il muro dove coloro che morirono vennero uccisi, i nomi, il numero di questi, e Venturino invece l'ha raccontata a modo suo, cioè l'ha raccontata come racconta un artista contemporaneo. Del resto, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi non si sono più fatti monumenti che raccontano o che descrivono, perché non è caduto il motivo. Uno dei motivi che sosteneva il monumento ai caduti relativo alla Prima Guerra Mondiale è che esso fosse anche esempio di eroismo, un eroismo da emulare. Con la Seconda Guerra Mondiale questo non è stato più possibile perché è stata una tale immane tragedia che nessuno ha voluto più che venisse. Gli artisti non si sono più sentiti di raccontarla e di descriverla, ma semmai di suggerire che dopo di questa, quando realmente è nato il Novecento, si potesse in qualche maniera ricominciare. Che cosa racconta Venturino? Innanzitutto è un muro fatto di pannelli di cemento dipinto a larghe pennellate con colori acrilici. È stato fatto, finito, ultimato, inaugurato dall'allora Presidente del Senato Giorgio Napolitano nel 1992 e cosa racconta, dicevo? Sintetizza la storia di Castelnuovo dei Sabbioni, ma la storia di ogni comunità che abita questo mondo. Una comunità che purtroppo ha subito la guerra. È la guerra, comunque sia, non è la seconda, non è la guerra dei nazisti, non è una guerra in particolare, è la guerra. Accade questo. Una macchina da guerra disumana avanza e trascina e distrugge. È una sorta di macchina bianca, appuntita, che camminando una sorta di mostro, vagamente antropomorfo, ma più meccanico che antropomorfo, avanza e distrugge. Ed è bianco, è nero, è rosso, è il rosso, è il sangue, è il fuoco, è il nero, è tutto ciò che brucia e che distrugge. La guerra distrugge, questo è quanto. Non c'è un perché di una guerra, non è più possibile parlare di una guerra giusta o non giusta. La guerra distrugge. Questo è di chi ha vissuto la seconda guerra mondiale. Dopodiché, da questa distruzione non ci si può fermare, non si può raccontare solo la distruzione, perché se siamo qui vuol dire che qualcuno si è rimesso in cammino. Chi si è rimesso in cammino? Ovviamente un uomo, una donna e un bambino. Poiché quando un uomo e una donna si prendono per la mano, il mondo ricomincia. Ricomincia sempre, tutti i giorni, dappertutto. Un uomo e una donna si prendono per la mano e ricominciano. La nuova mattina. E la nuova mattina è anche la mattina del lavoro, della ricostruzione, che non sarebbe ovviamente possibile se un uomo e una donna non si fossero presi per mano. E con loro il bambino. E allora il lavoro, forza positiva, energica, che ricostruisce. Ricostruisce ciò che la guerra stupida ha distrutto. E il lavoro, siamo a Castelnuovo dei Sabbioni, siamo nella città mineraria, per eccellenza del Valdarno, è rappresentata con quella straordinaria benna gialla che è nei ricordi di tutti coloro che a Castelnuovo hanno vissuto. Il lavoro ricostruisce e la vita ricomincia e va avanti. Ma non si può, per Venturino, intendere la rinascita, la vita, solo nella carne. Ma bisogna in tutti i modi vedere, immaginarsi, che la vita rinasca allo spirito. E lo spirito è rappresentato da una Vergine Maria, bianca su fondo azzurro, dopodiché una grande ascensione. Tutto, cioè il cammino dell'umanità, è questo. Ci si prende per la mano, si vive la nostra quotidianità, ma ci si proietta necessariamente in un altrove che è quello dello spirito. La sintesi appartiene a Venturino, alla cultura del suo tempo, e questo è un racconto che a Castelnuovo dei Sabbioni potrebbe essere da qualsiasi altra parte del mondo. La tecnica è molto innovativa, molto veloce, molto efficace. Si è in qualche modo Venturino immaginato un murale, infatti si chiama così normalmente il murale di Caveriglia, con questo muro che fa quasi argine ai morti, poiché dietro di qui c'è il cimitero. Quindi apre in qualche maniera, metaforicamente, una nuova via, una nuova vita alla comunità locale, ma a tutte le comunità del mondo. Quando Venturino presentò il primo bozzetto, che lo custodisco io nel mio archivio, quindi so bene com'è, ed è esattamente quello che poi si vede adesso in questo grande muro, il comitato dei cittadini rimase un po' perplesso, perché non capivano dove fosse la loro storia. Ma, mi si racconta, era sindaco allora Enzo Brogi, che è stato il primo sostenitore di questa impresa, amico di Venturino, il grande estimatore. Venturino, in quella sera, poiché lo presentò in una sera, qui al circolo di Castelnuovo dei Sardioni, li convince. Dopo averli convinti, sono convinti tutt'ora. Una delle cose che più meravigliano me è che questa piazza Sandro Pertini è uguale adesso come era appena stata fatta. Questo muro non ha conosciuto nessuno sberleffo, nessun atto vandalico, mai nessuno si è sognato di brutalizzarlo. Per me questo è un segno di straordinaria vitalità e di incredibile comprensione di qualcosa che lì per lì si pensava di non aver capito, ma in realtà si era capita evidentemente benissimo. Tanto bene che siamo stati in grado di trasmetterla poi ai giovani, ai figli, e nessuno mai si è sognato di brutalizzare questo muro. La piazza, intitolata Sandro Pertini, accoglie un'altra opera di Venturino, che noi la diciamo l'uomo in ferro, che è una sagoma in acciaio, che è un uomo in piedi che saluta appunto quelle mattine del mondo quando tutte le volte un uomo, una donna e un bambino fanno rinascere la vita. L'uomo di ferro è stato fatto da Venturino prima dell'allestimento di questa piazza, tant'è che fu presentato a Firenze nel Palazzo Strozzi nel 1984 e soltanto successivamente posto qui dove ha trovato la sua naturale collocazione. Grazie a tutti.